Tornate la salita delle croci e poi nel finale la scalata al Calaone, un'erta veramente difficile con pendenze davvero accentuate che possono fare la differenza e poi dalla cima del Calaone al traguardo di Este un vero e proprio tiro di schioppo dalla discesa della panoramica che porta i corridori dopo 115 km sul traguardo dal 24esimo Gran Premio Cementi Zillo. Intanto la corsa come vediamo è sostenuta da un'azione che parte nei primissimi chilometri si tratta di Luca Zanderigo della Filmop e Dusan Ganic della Promosport, veronese di Lazzise 21enne Zanderigo e invece veronese per ragioni sportive e Ganic alla Promosport è un'attretta 23enne. Lo vediamo intanto, li vediamo intanto passare nel centro abitato, poi la corsa si distende vediamo nei dintorni poi i colli eugani che sono una scenografia naturale per questa competizione. Ecco intanto sempre i due alla comando caratterizzeranno praticamente l'intera competizione o per meglio dire buona parte della stessa scambiandosi il compito di tenere alto il ritmo per rimanere ovviamente al comando, gruppo che sembra lasciar fare come osserviamo in questa situazione e quindi i due hanno buon gioco e mettono come si suol dire un'impronta nella manifestazione. Vedremo però se sarà questa la risoluzione che ci proporà questa 24esima edizione del Gran Premio Cementi Zillo che ci ripropone come osserviamo ora ancora la coppia Zanderigo e Ganic al comando. Partiti subito quasi alla prima tornata hanno raggiunto un vantaggio massimo di 3 minuti sul resto del gruppo un gruppo che inizialmente ha lasciato fare e non si è preoccupato più di tanto erano soltanto le battute iniziali. Ci hanno però dato dentro e ci hanno creduto i due al comando e quindi il loro vantaggio è decisamente lievitato. Poi però da dietro il plotone ha cominciato a fare un po' sul serio con i colori della Mantovani e della Trevigiani lì davanti a scandire un po' il ritmo a tenere sull'andatura a cercare di recuperare questo vantaggio che i due avevano accumulato. C'è sì la salita finale però se lasciamo arrivare sotto con un minuto è chi li va poi più a prendere quindi da dietro hanno cercato di rintuzzare mentre Zanderigo va all'ammiraglia a rifornirsi a prendere le boracce e poi giù dalla discesa della salita delle croci quella salita che si doveva ripetere per sette volte nel circuito iniziale. Le immagini ancora sul gruppo, un gruppo che però tra poco comincerà la vera e propria riscossa mentre ancora ritorniamo sulla testa della corsa. Vanno d'accordo, guadagnano una quarantina di secondi ma però oramai la salita del Calaone è lì davanti. Il gruppo li va a riprendere e si inizia questo terribile strappo conclusivo uno strappo che può decidere la corsa, che può decidere il 24esimo Gran Premio Cementi Zillo organizzato veramente in maniera magistrale dal club ciclistico Este. Quindi complimenti al presidente Renzo Graziato e tutti i suoi collaboratori. Salita del Calaone attacca subito fin dalle prime battute Mauro Finetto della Filmop Sorelle Ramonda. Eccolo qua il corridore di Mirko Rossato si corre in casa e il direttore sportivo di questa formazione è proprio di queste parti quindi ci tiene a fare bella figura dalle sue parti e lancia un attacco con questo atleta già vitorioso in questa stagione una prima volta. Eccolo qua che cerca la soluzione di forza proprio sul tratto finale del Calaone. E' una salita come abbiamo detto, un dente che si impenna e che i corridori devono affrontare con buona tenuta per non venire intruppati, inghiottiti dal gruppo. Ed è l'azione proprio di Mauro Finetto che si propone attaccante e sta pregustando un probabile successo in questa ventiquattresima edizione del Gran Premio Cementi Zillo. Sono 115 chilometri percorsi complessivamente mentre con le nostre telecamere siamo già sulla linea del traguardo. Che cosa succede? Braccia al cielo per Mauro Finetto, Filmop, Sorelle Ramonda che vince la media di 43-009. Due ore, 40 primi, 26 secondi per percorrere i 115 chilometri. E ora lo sprint che vale la piazza d'onore con Enrico Zenna a 14 secondi, poi Turina. A seguire troviamo nell'ordine d'arrivo Solivan, Caponcelli, Gasparini, Pavarini, Tiozzo, Garziera e Fumagalli. Spaccato e allungato il gruppo. Vedete i frazionamenti nell'ultimo strappo sono stati determinanti. Hanno frazionato il gruppo in più tronconi, in più gruppetti. Eccoci con lo sprint per le posizioni dell'incalzo. Come è stata la gara e il tuo finale? Sì, sapevo di essere in grande condizione e speravo di ottenere un grande risultato perché per noi qui è un mondiale in casa di Mirko e per tutta la squadra era importantissimo vincere. Oggi i miei compagni ci abbiamo provato fino all'ultimo giro a provare a anticipare così. Poi ci siamo organizzati per prendere la salita tutti insieme. Mi hanno dato una grande mano, veramente sono stati grandissimi. Io ho dovuto solamente fare la salita a tutta e arrivare all'arrivo. La salita a tutta e arrivare all'ultimo giro a provare all'ultimo giro a provare all'ultimo giro a provare all'ultimo giro.